In questa edizione di Amici sono nate tante storie d'amore, e tra tutte, quella che ha appassionato maggiormente i fan del talent è quella tra Giulia e San Giovanni. La loro storia è iniziata sei mesi fa. Adesso che si avvicina alla finale la ballerina comincia ad avere le prime paure e i primi dubbi sul rapporto che la lega al cantante. Giulia vorrebbe chiedere a San Giovanni tante cose riguardanti la loro storia, ma non ha il coraggio di parlarne e per questo decide di scrivergli tutto. In questo caso non si è trattato di una dichiarazione d'amore, ma di una richiesta dolcissima, scritta tra le righe del suo quaderno. La ballerina spiega di aver paura che tutto possa finire, una volta terminata la finale di Amici, quindi prende carta e penna e scrive. Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di amarmi, fuori da qui continuerai ad esserci per me. Te lo scrivo perché se provo a parlarti mi viene da piagere. San Giovanni, appena termina di leggere, scrive sotto questa domanda un grande sì e abbraccia Giulia promettendole che, qualsiasi cosa accada, lui ci sarà per lei. San Giovanni ha espresso il desiderio di fermarsi a Roma da Giulia per conoscere la sua famiglia. Lei ha scherzato sul fatto che probabilmente suo padre gli darà subito un soprannome. La loro storia sembra proprio una favola e ci auguriamo che abbia un lieto fine anche al termine di Amici. Secondo voi continueranno ad amarsi anche dopo la finale? Sarà una storia destinata a durare nel tempo? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie di Amici, iscriviti al canale e attiva la campanella.